Dalla marcia sull'Aquila alla marcia su Roma. E questa è la presa di posizione del sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, dopo il varo al riordino delle province, voluto dal Consiglio dei Ministri. Quel provvedimento che in sostanza accorpa Teramo all'Aquila e Pescara con Chieti. Se fino ad oggi lo slogan era tutti all'Aquila, da adesso diventa tutti a Roma. Stiamo organizzando una manifestazione, io sto già sentendo i 35 sindaci che sono stati in qualche modo defenestrati, non ci stanno così come non ci stiamo noi. Io non sono contrario alla spending review, ma deve passare attraverso una legge costituzionale. Così è un salto nel buio. Quindi noi andiamo avanti con la nostra battaglia, non è una battaglia di facciata come qualcuno del Partito Democratico cerca di dire, come ha detto Camillo D'Alessandro in più di un'occasione che vuole difendere Chieti. E mi dispiace che il Partito Democratico a Teramo, tranne alcune eccezioni a cui va il mio ringraziamento, è assolutamente in silenzio. Forse perché ha ricevuto qualche diktat dal segretario regionale che addirittura ha cacciato via una rappresentante che sta dal mio fianco, insieme a Teramo Nostra, insieme a tante associazioni, a difendere questo territorio. Non è una difesa di campanile, è una difesa di posti di lavoro, di storia, di cultura, è una difesa di qualcosa che ci appartiene.